Il giornalista Jacopo Abarello poco prima della diretta Sky TG24. Davanti a sé ha tutto il kit del perfetto giornalista. Il microfono, fogli di carta con la scaletta e un bel rotolone di carta igienica. Ma avrà mica scambiato lo studio per una toilette? Boh, stiamo a vedere. Ancora qualche accorgimento? Vi è partito. Ecco, srotola con cura bene tutta la carta, tampona la fronte perlata, una bella soffiata e si ripassa il fazzoletto urfido su tutto il suo bel visino. Complimenti! Eccoli, un'altra bella passata. Tra poco sei nonna, dai dati un contegno, sei sempre a Sky TG24. Sì, questo è Sky TG24, questo è Sky di Corsa 24. E non ti stressare che sta iniziando scorie! Grazie a tutti! Grazie a tutti!